Che cosa attenderci in questo nuovo appuntamento di One Health? One Health è un evento, ormai alla terza edizione, che mira a far conoscere questo approccio alla sanità di prevenzione, che tiene presente la sanità umana, strettamente correlata a quella dell'ambiente, degli ecosistemi e a quella della salute animale. Un appuntamento denominato questa volta Frontiera Africa, perché? Frontiera Africa, perché l'Africa è il continente del futuro, è un continente dove la popolazione cresce a ritmi vertiginosi. Nel 2050 si conta che saranno oltre 2 miliardi, un quinto della popolazione mondiale. L'Africa è ricca di terre coltivabili, di materie prime. Per noi rappresenta un laboratorio dello studio delle malattie infettive. Noi siamo presenti in Africa dal 1985 e collaboriamo con alcuni paesi africani ormai da 40 anni e in alcuni con attività più a spot. Ed è stata per noi la condizione per poter studiare le malattie infettive, per poterle conoscere e combattere quando sono arrivate nel nostro territorio. Tante personalità saranno presenti a questo nuovo appuntamento? Per far conoscere un approccio e per far conoscere questo approccio al mondo e al grande pubblico bisogna utilizzare delle grandi personalità. Abbiamo scelto personalità politiche come il ministro Bernini, il ministro Tajani, bisogna utilizzare i giornalisti di un certo livello e bisogna utilizzare gli scienziati, gli scienziati del calibro di Silvan Briss, del calibro di John Kengesong, di Stefano Bertuzzi, Feldman e altri ancora. Attenzione anche alle scuole e ai ragazzi. Assolutamente sì, grazie per la domanda. La conoscenza e la coscienza passa prima di tutto attraverso le nuove generazioni e quindi dedicheremo come al solito il venerdì mattina alle scuole di Teramo attraverso un dialogo con il giornalista scrittore Musumeci. Come istituto siete sollecitati negli ultimi tempi sui casi Deng. Che cosa si può dire? Siamo sollecitati dai casi Deng perché siamo praticamente centro di referenza regionale per le malattie trasmesse da vettori. Si può dire che la Deng ormai è diventata, è ancora una malattia esotica ma ormai è presente sul nostro territorio. Qui in provincia di Chieti abbiamo sei casi, in Abruzzo in provincia di Chieti abbiamo sei casi umani che sono autoctoni, cioè non più importati, in tutta Italia i casi ormai sono centinaia e centinaia.